Ma come noi facciamo le piazze, fra poco saremo anche a Palma d'Alborea, io volevo invitare un attimo a salutare il Presidente della Proloco. Buonasera, si accomodi, venga. Diciamo un applauso al Presidente della Proloco. Buonasera. Buonasera. Gli ospiti, filia. Non è che sia urgente. Buonasera. Presidente delle Proloco regionali sardi praticamente, non su rappresentanti si dedotte regionali sarde. Io sono eletto da tutti i Presidenti delle Regioni e Proloco, praticamente sono il Presidente della Proloco. Vi ringrazio a nome delle Proloco di averci invitato qui perché la vostra trasmissione praticamente è... Tanti vostri suoi commenti sulla dammi con il traga merda, capito? Grazie. Avete capito bene tutti. Complimenti per questo momento di alta... Aspetta un attimino, ma lei è Presidente... Come si chiama? Devo iniziare a Rosergio Mattarello. Mattarello? Mattarello, sì, sì, Mattarello. Non si ho parentesi, no, non si ho parentesi. No, vabbè, sì, Mattarello, 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 Mattarello. Chi mi ha cambiato la... Io, Presidente delle, invece, ah, isso, capito? Eh beh, c'è anche differenza. Eh, il futuro non è lì. Praticamente ti succede. No, te fraghetti, dai. Rivali ancora? Allora? No, eh, devo... Lei è Sergio Mattarello? Sergio Mattarello, sì. Non Mattarello. No, no, non si è, manco parentesi. Non siete pari. Mattarello. Cosa ci ha fatto? Qualcosa? Ha portato, anzitutto, si ha appongotto il Garliardetto. Ah, grazie. Che le ha detto... Di che cosa? Che le ha detto... No, tu te lo puoi ancora fare. È bianco? Bianco, se io sono in fase di studio, tu te lo puoi studiare e quindi... Ah, vabbè, non mi dà niente. Beh, questo c'è. Eh, vabbè, capito? Vabbè, veniamo che le ha detto. Lo sta studiando un mio cugino, praticamente, questo cugino mio. E cos'è, un ingegnere? Macellaio. Macellaio. Allora, poi che ho portato? Poi ho portato... Ah, volevo invitare la... Che schifo! Stringa la mano a Diosic. No, mi fa male. Buonasera. Buonasera. Vedi, potremmo invitare assomai questo biciocchetto? Eh, assomai questa prolocco. Allora, allora, volevo invitare la... Praticamente io volevo invitare la popolazione sarda... Certo. Alla prima sagra che tu hai preso, vai. Che sagra è? La prima sagra di Sabudda Zezia, praticamente. Ma cosa c'è? Ecco, prolocco... Ah, questa è la locandina. Prolocco regionali sarda e presenta la sagra di Sabudda Zezia. Abbiamo la sagra di Sabudda Zezia. E com'è questa sagra? Dove l'ha fatta? Beh, eh... Praticamente davvero su questa sagra, davvero su Vendi e a Tramazza. La facciamo a Tramazza nei parcheggi del South Green. E cosa consiste questa sagra? No, cosa consiste? No, della gallina seduta. Cosa consiste? No, non è... Praticamente, fai io su una corrazzo. Eh. Ci buttiamo 50 galline e aumentare il banto di tutti i turisti. Ci guettiamo su suga boni. E praticamente, se abbiamo vado da che si sceglie su suga boni, noi ci spingiamo su da seggo su suga e la diamo a mangiare ai turisti, praticamente. Così a fare... E così? E così a continuare. E quando finisce? Finisce praticamente questa manifestazione, che accade quando la gente è salzata e il suga boni è scalato. Io la ringrazio, dobbiamo andare pure su Stassi, vediamo poco. Ci vediamo a mangiare. Stassi, rimanga con noi. Grazie. Sergio Massarella. A voi.